Bari playoff a Cittadella, la Corte d'Appello federale ha rispinto il ricorso dal club Bianco Rosso per la penalizzazione di due punti in seguito al mancato pagamento di contributi e ritenute del 16 marzo. In Veneto il Bari dovrà necessariamente vincere per superare il turno. Palla giustizia, agibilità revocata, entro 90 giorni si procederà con lo sgombero, l'emergenza sbarca a Roma, domani tavolo con il Ministero. Addio Fogna in strada annunziata, residenti sul piede di guerra, il lavoro e la condotta bloccati dalla sovrintendenza non sono mai ripartiti. Un clic in meno, un pensiero in più, il nostro focus sulle insidie del web per i ragazzi, una bussola per navigare in sicurezza. Buonasera in diretta dalla redazione di Telebari, come sempre saremo in vostra compagnia per un'ora per raccontarvi quello che è accaduto oggi nella nostra città e commentarlo con i nostri ospiti. Il Bari Calcio è un'apertura, l'avete già sentito dai nostri titoli. La Corte d'Appello della Feder Calcio ha respinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di due punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ritenute sugli stipendi di gennaio e febbraio. Lo rende noto la FIGC. Con questa decisione rimane quindi invariato il calendario dei play-off di Serie B con città della Bari che si giocherà in Veneto al Tombolato domenica 3 giugno alle 18.30 e Venezia Perugia alle 21.00. In Veneto il Bari dovrà necessariamente vincere per superare il turno. Le vincenti affronteranno rispettivamente in semifinale il Frosinone e il Palermo il 6 e il 10 giugno, finali il 13 e il 16.00. Cambiamo argomento e andiamo avanti con la fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Ortodosso Russo Kirill in programma a Bari il 7 luglio in occasione della giornata di riflessione e preghiera indetta dal Pontefice sulla situazione del Medio Oriente. Ad annunciarlo ufficialmente il giorno dopo aver incontrato il Papa in Vaticano è stato il metropolita Ilarion, capo del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca che invece ha assicurato la sua presenza nel capologo pugliese in rappresentanza di Kirill. Falliti quindi tutti i tentativi di mediazione fra Patriarcato Ortodosso Russo e Vaticano, due i fattori che avrebbero pesato sulla decisione del religioso russo. Da un lato il luogo dell'incontro, cioè l'Italia, vista dal Patriarca non come un paese neutrale a differenza di Cuba dove invece ci fu il primo faccia a faccia tra i due leader religiosi. Poi la presenza nel capologo pugliese del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, con il quale non scorrerebbe buon sangue. E passiamo all'emergenza paragiustizia, è stata revocata l'agibilità, entro 90 giorni si dovrà procedere con lo sgombero, sentiamo. La revoca dell'agibilità della Procura diventa definitiva, è stata firmata oggi l'ordinanza dai dirigenti della ripartizione urbanistica del Comune di Bari. Entro 90 giorni il palazzo dovrà essere sgomberato. Nella quarta giornata in cui la giustizia è confinata in una tendopoli è scattata la corsa contro il tempo, nella stessa mattinata in cui, per la serie, oltre al danno e alla beffa, una tenda è stata chiusa per il cattivo odore e i peli, segni evidenti del passaggio di animali. Bisogna superare il prima possibile una situazione di estrema criticità. E questa è la sintesi della riunione che si è tenuta in prefettura con il capodipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e i vertici degli uffici giudiziari baresi. Ipotesi ancora in piedi, la dichiarazione dello stato di emergenza, per la quale ci sarebbero tutti i presupposti, ha fatto sapere il sindaco Antonio De Caro, ma ci sarà bisogno di un decreto legge. Sederi parlerà domani a Roma, dove con il Ministero della Giustizia verranno vagliati tutti i provvedimenti necessari da adottare. Le misure tampone non bastano, ha detto il prefetto di Bari, Mari di Samagno, bisogna andare oltre con ulteriori attività e provvedimenti. Lo sgombero può iniziare, ma con prescrizioni precise per limitare le sollecitazioni sugli elementi portanti del palazzo. Si comincia dalle documentazioni di archivio e degli arredi più ingombranti dai piani superiori a livello interrato, trasferimenti a cui dovrà provvedere la proprietà, ovvero l'Inail. Accesso limit agli estranei è limitato e controllato alle persone autorizzate. Torniamo a parlare dei disagi in strada annunziata. Dopo lo stop imposto dalla sovrintendenza, i lavori per la Fogna non sono mai più ripartiti. I residenti chiedono giustizia. Guardateci. Dieci anni, ancora nulla di fatto. Ancora acqua bollente e non potabile che scorre dei rubinetti. Ancora paura che il proprio appartamento si trasformi in una piscina dopo qualche goccia di pioggia. E ancora passeggiate notturne di blatte. Le 15 famiglie residenti in strada annunziata non ce la fanno davvero più. Qualche speranza era stata nutrita lo scorso anno con l'annuncio e l'inizio di fatto dei lavori di rifacimento della Fogna. Lavori bloccati dopo il rinvenimento di reperti archeologici. Così, dopo dieci anni, tutto è tornato al punto di partenza. Anche per fare una caffettiera di caffè la mattina dobbiamo riempire prima una bella vasca d'acqua per avere poi un po' d'acqua decente. Quindi è vergognoso. Passano anche i turisti. Siamo diventati lo zimbello proprio della zona. Perché adesso non si può vivere più. Non è in condizione di vivere. E di scarafaggi poi. Non c'è un po' di pulizia. Ci hanno proprio abbandonati. Che vengono a vedere. Però ovviamente vedono quello che c'è. Non nessuno acquista. Perché credo che nessuno, insomma, è interessato a vivere in queste condizioni. Hanno trovato le tombe. Subito hanno bloccato. No. Qui ci sono anni che sono bloccate questa strada. Via Sparano. Perché a zona alta hanno stabilito tutto il fatto. Ci hanno sempre delusi. Ci hanno sempre presi per i ponderi. La situazione si potrebbe sbloccare a metà giugno. La sovrintendenza avrebbe inviato prescrizioni al direttore dei lavori che le avrebbe trasformate in varianti di progetto. Tutto sarebbe stato trasferito agli uffici tecnici del comune. La settimana prossima la giunta si dovrebbe riunire per deliberare. Dopodiché i lavori dovrebbero partire. In poche parole si potrebbe tornare a lavorare in strada annunziata entro una ventina di giorni. Ma tutto rimane una speranza per i residenti che si dicono stanchi e arrabbiati. A farsi così da portavoce a sostenere la loro causa è il presidente del Circo Lacri D'Alfino, Michele Fanelli, che promette. Aspetteremo quest'altro mese di giugno, dopodiché noi ci rivolgiamo alla Corte Europea dei Diritti Umani, dove ci sono tutte le strutture giuste affinché questo problema venga esaminato. Perché c'è l'approvazione di tanti diritti, tra cui il rispetto della vita privata e familiare e i trattamenti inumani e degradanti delle persone. Si è tenuta questa mattina al Sacrario Militare dei caduti di Oltremare di Bari la cerimonia di tumulazione con resa degli onori dei resi di cinque caduti, di cui uno noto morti durante la campagna di Grecia della Seconda Guerra Mondiale. I cinque caduti provengono tutti dall'Albania. Tre caduti sono stati ritrovati sulle alture del Monte Golico, situato a est di Valona. Uno solo di questi è stato dato un nome. Si tratta di Francesco Bortolotti, nato a Maiano il 29 giugno del 1920 e deceduto il 24 marzo del 1941, di cui è stato trovato un nipote in vita. Gli altri due ignoti sono stati rintracciati grazie alle segnalazioni di un ufficiale albanese nel territorio del vellaggio di Senican. La gestione dei rifiuti di produzione non domestica, oggetto del convegno, che si è tenuto questa mattina nella sede a Iapigia del comando della Polizia Locale. Guardiamo. Questa mattina una tavola rotonda vuole entrare in questo tema, che spesso viene lasciato a margine, spesso si parla di conferimento da parte degli utenti domestici e dalle civili abitazioni. Invece questa è una tematica importantissima, vogliamo attenzionare i stakeholders del settore su questa tematica. La gestione dei rifiuti di provenienza non domestica è importantissima, perché spesso una non corretta gestione determina un conferimento nell'ambito del ciclo della produzione dei rifiuti domestici. Lo sanno bene i residenti dei quartieri Iapigia e Santa Rita, che non solo vedono le loro campagne trasformate in vere e proprie discariche abusive, ma che sono anche costretti a respirare i fumi potenzialmente tossici e sprigionati dagli incendi appiccati per far scomparire i rifiuti abbandonati per strada. Anche a loro è dedicato il convegno che si è tenuto questa mattina al comando della Polizia Locale, in cui tutte le istituzioni coinvolte nel delicato processo della gestione dei rifiuti di produzione non domestica hanno fatto il punto della situazione. Non è un caso che l'incontro sia stato calendarizzato proprio in questi giorni in cui è tornata alla ribalta fortemente il fenomeno dei roghi tossici o anche quello della migrazione del rifiuto. E a breve il Comitato dei Cittadini di Iapigia pubblicherà una lettera aperta rivolta proprio a loro, alle istituzioni, tra le richieste un filo diretto proprio con la Polizia Locale, in modo da poter segnalare in tempo reale le situazioni di emergenza. Restiamo in tema dei rifiuti. La Regione Puglia ha dato il via libera al trasferimento dei rifiuti indifferenziati della città di Roma per un quantitativo di 150 tonnellate al giorno pare la metà di quello richiesto dalla Regione Lazio per soli 30 giorni. La decisione è stata formalizzata con un atto di giunta adottato sulla base di un'istruttoria tecnica con la quale è stata verificata la fattibilità e la disponibilità da parte degli impianti di trattamento pugliesi di poter ricevere questo quantitativo. Questa disponibilità fa sapere la Regione e deriva dal fatto che è aumentata sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata in Puglia che è passata negli ultimi due anni e mezzo dal 32 al 48%. Un risultato possibile grazie alle politiche pubbliche in materia di rifiuti intraprese dalla Regione Puglia la proficua collaborazione con i sindaci a garantire la compatibilità dell'operazione. C'è la disponibilità degli impianti di trattamento che dovranno ricevere i rifiuti e di avere spazi liberi e disponibili alla ricezione. E siamo alla politica, tre giorni di dibattiti, cultura e anche musica. Torna Fenix, il laboratorio politico del Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia che si svolgerà per la prima volta anche in Puglia. Sentiamo. È la terza edizione ma la prima che si svolgerà in Puglia. Torna la tre giorni del Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia questa mattina simbolicamente presentata a Palazzo di Città nel cuore del capologo pugliese. Politica, dibattiti, cultura e musica, Gioventù Nazionale riparte e lo fa con un messaggio, fortemente credere che anche il claim che caratterizzerà i dibattiti è le iniziative culturali che si susseguiranno nel programma che prevede tra tutti un confronto tra il governatore pugliese e Guido Crossetto sul Sud, i giovani e il lavoro. Per quest'anno siamo stati fortunati perché il nostro partito Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale con l'ausilio dell'onorevole Gemmato e dell'onorevole Lucaselli hanno permesso questa manifestazione che tipicamente si svolge a Roma come a Tredio di omaggiarci di questa manifestazione in provincia di Taranto precisamente a Pulsano è una manifestazione che si sviluppa in tre giorni è la festa nazionale del Movimento Giovanile di Fratelli d'Italia Gioventù Nazionale che io rappresento a livello regionale una manifestazione che si svolge in tre giorni piena di dibattiti, cultura, sport, musica, parapolitica, università, scuola affronteremo una serie di temi che riguardano e abbracciano il mondo giovanile a 360 gradi Presenti alla conferenza stampa anche i consiglieri comunali Filippo Melchiorre e Michele Caradonna il consigliere regionale a Rio Congeto i deputati pugliesi Ilenia Lucaselli e Marcello Gemmato il sud al centro del programma del dibattito politico dichiarano congiuntamente la festa dei giovani di Fratelli d'Italia sarà l'occasione per discutere dei principali temi del mezzogiorno a margine della conferenza stampa annunciata anche la raccolta organizzata da Fratelli d'Italia per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica che avrà luogo in tutte le piazze d'Italia sabato 2 e domenica 3 giugno Questa mattina la finale della quinta edizione del Festival Teen Explorer una manifestazione ideata dal servizio di psicologia Progetto Giada dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari guidato da Maria Grazia Foschino per informare, prevenire e sensibilizzare all'uso improprio del web come l'adescamento online e il cyberbullismo Protagonisti dell'evento i ragazzi delle scuole pugliesi secondarie di primo e secondo grado che hanno presentato progetti creativi realizzati sul tema 3 i vincitori premiati Su questo tema torneremo, lo faremo nell'ultimo spazio del nostro telegiornale andiamo avanti con un bilancio dell'opera per i bambini realizzata dalla Fondazione Petruzzelli 19.000, scusate, spettatori solo nel mese di maggio 4.000 prenotazioni già per novembre ecco i numeri del successo del Gatto con gli stivali lo spettacolo per bambini della Fondazione Petruzzelli in occasione dell'ultima recita questa mattina il compositore Nicola Scardicchio e la regista ed autrice del libretto Maria Grazia Pani hanno salutato e ringraziato il pubblico nello stile della prima attraversando il palcoscenico in una ideale corsa verso la platea con il maestro Alvise Casellati ed i protagonisti dello spettacolo per quanto riguarda Opera per ragazzi in programma nel 2019 il sovrintendente Massimo Biscardi ha annunciato in anteprima che sarà messo in scena Pinocchio per la regia di Walter Pagliaro e su musiche composte da Paolo Arcà il Gatto con gli stivali sarà nuovamente in programma al Teatro Petruzzelli da giovedì 22 novembre a mercoledì 28 ci fermiamo preme posa pubblicitaria state con noi tra poco commenteremo i principali fatti di questa giornata con il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Nini Perchiazia eccoci ancora qui in diretta pronti per la nostra rassegna stampa una rassegna stampa ricca è stata una giornata proficua questa ne parliamo con Nini Perchiazzi giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno ciao Nini buonasera e benvenuto ciao Alessandro buonasera a tutti mettiamo però la rassegna in stand by per un attimo perché come sempre sapete che il giovedì è dedicato al nostro live per scoprire insieme le imprese di Confindustria oggi con Barbara Cirillo scopriamo insieme l'azienda Ladisa e allora andiamo a scoprirla insieme appunto in questo racconto Barbara il nostro viaggio tra le imprese di Confindustria ci porta oggi nella Ladisa io sono insieme ad uno dei due soci Sebastiano Ladisa innanzitutto benvenuto buonasera un'azienda leader nel settore della ristorazione nata quanti anni fa allora l'azienda è nata con mio padre con mio nonno non con mio padre nel lontano 50 successivamente con mio padre nel 73 ha aperto un ristorante tipico e nel 98 invece si è trasformato in una SRL ecco quali erano gli obiettivi inizialmente rispetto invece a quella che oggi è la realtà della Ladisa allora gli obiettivi iniziali era un normale ristorante tipico molto frequentato all'interno della cittadina barese senza nessun capriccio relativamente al proseguo nel futuro il ristorante si è trasformato in una società di responsabilità limitata nel momento in cui da un'intuizione sua relativamente allo sbarco degli albanesi del 91 abbiamo diciamo come dire sviluppato una parte della ristorazione che pur se è complementare ma è differente che è la ristorazione collettiva diciamo che l'intuizione quindi è arrivata nel momento dello sbarco della Vlora possiamo associare due momenti? Sì, il 91 è stato il principio poi il 98 mio fratello Vito ha avuto questa visione relativamente al mercato della ristorazione collettiva io qualche mese successivamente qualche mese dopo successivamente l'ho affiancato in questa nuova esperienza e oggi è un'azienda con ramificazioni in tutta Italia con 4.000 dipendenti con un volume d'affari di diverse centinaia di milioni di euro e che è una presenza capillare che parte dal nord a Bolzano e arriva a Lampedusa Ecco, allora sul presente ci soffermeremo tra pochissimo nel secondo spazio E allora noi partiamo subito dove dobbiamo partire? Partiamo intanto dal Bari insomma avete sentito il ricorso del Bari alla procura federale che è stato respinto confermati due punti di penalizzazione dunque il Bari giocherà i playoff a Cittadella obiettivo vincere per superare il turno e tra l'altro questa sentenza un po' smentisce quelle tesi di complotto con cui erano stati appellati i giornalisti baresi ma sappiamo nonostante tutto che la colpa resta sempre dei giornalisti non vogliamo sottrarci i nostri doveri e alle nostre responsabilità Il presidente del Bari ha pagato in ritardo perché è evidente che abbia pagato in ritardo poi si possono raccontare tutte le storie del mondo ma non c'erano speranze per l'appello sì si poteva pensare sono rivolte al migliore avvocato del foro per quanto riguarda il calcio Grassani ma è evidente che è stata fatta una cosa non conforme alle regole punto poi se dobbiamo fare i tifosi diciamo che il Bari viene danneggiato adesso andrà a Cittadella se la giocherà sul campo certo questa vicenda poteva essere affrontata molto prima io su questo d'accordo con il direttore sportivo del Bari quando dice si decide prima perché le ultime partite probabilmente dove sono andato a prendermi un pareggio tento di vincere fai dei calcoli diversi ma questo è un problema della giustizia sportiva insomma non sempre in Italia è tutto così lineare e limpido è limpido la burocrazia anche nel calcio anche in questo caso ha il suo peso speriamo che non abbia il suo peso in campo no? no no alla base ha sbagliato il Bari poi possono raccontare quello che vogliono e allora potremmo dire che non solo la giustizia sportiva non è così lineare ma anche la giustizia ordinaria se pensiamo appunto a quello che sta accadendo alla procura tra l'altro le ultime notizie sono quelle della revoca dell'agibilità una revoca definitiva dell'agibilità al palazzo di via Nazarianz insomma le tende le avete viste tra l'altro rischio in agibilità fa un po' sorridere ma ci sarebbe da piangere davvero rischio in agibilità probabilmente anche una delle tende visto che questa mattina insomma non era particolarmente come dire utilizzabile perché c'erano i segni evidenti di passaggio degli animali quindi è stata in qualche modo pulita e bonificata per poi essere utilizzata nuovamente paralisi dei processi questo si era della giustizia in generale questo sarebbe stato un effetto certo bisogna capire adesso anche dal tavolo romano di domani che cosa verrà fuori se si procederà con la dichiarazione dello stato di emergenza servirà per un decreto secondo me i cinghiali del San Paolo hanno scoperto dell'esistenza di queste tende ci ripariamo stanotte scherzi a parte la decisione delle tende quando verrà rivista a posteriori mi sembra abbastanza paradossale comunque si poteva stoppare un attimo tutto quanto e riflettere adesso ci sono due cose che vanno su due binari paralleli ovvero da una parte probabilmente verrà decretato lo stato di emergenza che consentirà di agire in modo più rapido per trovare una sede alternativa provvisoria andando in deroghe anche gli strumenti urbanistici perché il problema è anche quello cioè trovare una sede che abbia una destinazione urbanistica si bisogna vedere perché poi altre appunto avevano c'era la rispondevano alcune soluzioni rispondevano ai requisiti richiesti ma non avevano la destinazione d'uso corretta perché quindi là entra in gioco il comune dall'altro lato c'è un'altra partita parallela che però va chiarito perché sento dire molte cose allora facciamo il progetto in due anni costruiamo o adesso velocizziamo va con la sua velocità è quello l'iter per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia del nuovo polo di uffici giudiziali se sarà l'ex casermetto faccio segno così perché è qui alle spalle o se verrà riconsiderato il suolo a libertà di corso della carboneria ma quell'iter non riceve nessuna accelerazione dallo stato di emergenza sono due cose nettamente distinte certo ci siamo portati avanti dopo i rallentamenti degli anni passati e adesso in vitali l'agenzia del demanio in vitalia hanno già in mano lo studio di prefattibilità devono capire se è realizzabile sull'ex casermetto ma poi c'è sempre un progetto da fare un bando i lavori da eseguire i lavori da eseguire ma prima ancora di aprire i cantieri occorrono almeno 6-7 anni non c'è nessuna procedura d'urgenza che possa intervenire dunque se poi dobbiamo raccontarci altre storie perché adesso vedo anche poi è il momento di cavalcare in politica attaccare qualcuno o fare polemica l'idea era quella di trovare una soluzione ponte che fosse anche dignitosa e per non spezzettare troppo gli uffici della procura che poi porterebbero a degli inevitabili disagi per gli operatori della giustizia però immaginiamo anche per gli utenti per carità ma se non c'è una soluzione che si fa? cioè se c'è una soluzione spezzatino si trovano due siti due luoghi che fai si sceglierà per la venire dove è possibile no? gli operatori della giustizia si dovranno sobbarcare questo ulteriore disagio poi se dobbiamo fare l'analisi del passato possiamo attribuire colpe di colori per carità ma adesso bisogna risolvere il problema vedremo per esempio sembra che forse avremo un governo tra qualche ora potremmo avere un governo sembra andare tutto in quella direzione perché pare che insomma intanto Cottarella ha rimesso il mandato al Colle questo pomeriggio alle 21 sarà convocato il premio del Conte quindi sembra che sia ufficialmente partendo la stagione Conte la stagione Lega Movimento 5 Stelle insomma riguardarlo con il Reguind questi ultimi giorni fa un po' sorridere però ovviamente ci rendiamo conto di quanto l'Italia sia stata un po' in nostaggio di queste beghe politiche se di beghe politiche si può parlare sì adesso alle 9 c'è l'incontro Cottarelli vabbè ha rimesso il mandato al Presidente della Repubblica adesso salgono sale al Colle Giuseppe Conte che era il premier disegnato prima chissà si avrà raggiunto al curriculum che era stato già due volte premier non lo sappiamo ovviamente si scherza perché un po' sapeva l'ironia che corre sui social è sempre molto divertente speriamo che ci sia un governo è che intanto la strada in parte la traccia dell'Europa anche se questi aneliti di fuga dall'Europa secondo me sono pericolosissimi pensiamo di poter tornare a stampare moneta noi ma non ha senso avremo un'infrazione diventeremo molto più ricchi ma a livello numerico perché in lire avremmo stipendi mostruosi solo che un chilo di pane arriverà a costare 100 euro 100 mila lire negli anni staremo a vedere anche quale sarà la lista dei ministri anche se qualche indiscrezione c'è già un po' in linea con quello che si era detto nel primo mandato Conte sicuramente confermato pare insomma Di Maio al lavoro e Salvini all'interno chissà si sono ricordati di indicare qualcuno per il miur perché se non sbaglio non non ricordo adesso se era il miur o la cultura non era stato indicato nessuno no per la cultura una casella mancante non gli interessava non interessava a nessuno che rischiera come si dice in questi casi facciamoli lavorare e poi chiaramente avremo modo di parlarne visto che non si è ancora ufficialmente formato ma sembra che sia così sia andato in questa direzione mentre c'è quindi una fumata bianca sembra per la politica nazionale c'è una fumata nera per quel che riguarda l'incontro tra il patriarca russo Kirill e Papa Francesco incontro che si terrà tra l'altro il 7 luglio prossimo proprio qui a Bari e bene Kirill ha declinato l'invito non ci sarà perché a quanto pare l'Italia non sarebbe abbastanza neutrale rispetto invece a Cuba dove si tenne il primo famoso abbraccio tra Papa Francesco e patriarca Kirill sposta qualcosa l'assenza del patriarca Kirill in questo incontro? Dovrebbe spostare qualcosa anche se dico sempre che gli assenti hanno sempre torto per cui chissà forse nel frattempo le diplomazie potranno mettersi ecclesiastiche mettersi all'opera e tentare di ricomporre questa situazione perché anche qui c'è una questione di veti incrociati non è gradito l'altro patriarca insomma però intanto la cosa importante secondo me è che Papa Francesco abbia fatto questa mossa e beh poi importante anche perché questa ulteriore scusa Alessandra questa ulteriore mossa perché dopo Cuba sta continuando con la sua politica di apertura tra l'altro Nini lo commentavamo con te ma diciamo che anche questo episodio connota questo incontro con una connotazione abbastanza politica pur essendo un incontro religioso sì 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 ma infatti è proprio la politica della chiesa assolutamente bisogna ristabilire degli equilibri e mai cioè in un momento delicato come questo ben venga ben vengono le aperture ben vengono la condivisione di idee e di strategie vedremo comunque il 7 luglio Bari diventerà capitale del mondo no? perché comunque con la visita di Papa Francesco non c'è dubbio che sia così noi torniamo torniamo nel nostro live per un secondo estratto del racconto della Ladisa con Barbara Cirillo e allora lo dicevamo l'azienda Ladisa è un'azienda leader nel settore degli alimentari nel settore della ristorazione in particolare quanti dipendenti oggi voi gestite? ho riferito prima intorno ai 4.000 unità presenti in tutto il territorio da Bolzano a Lampedusa ecco è una ristorazione a 360 gradi dagli ospedali alle mense scolastiche possiamo dare qualche dato dell'Aladisa un dato che le sorprenderà l'Aladisa il 90% lavora fuori dalla regione Puglia prevalentemente nelle regioni del nord e nella regione Lazio dove ha il fatturato più alto in Puglia e specialmente nelle zone di nostra presenza come Bari come le zone limitrofe sia nel mondo scolastico che nel mondo della ristorazione sanitaria ha delle percentuali minime com'è cambiata la domanda in questi anni dall'inizio fino ad oggi il servizio è cambiato perché ci sono stati inserimenti dei decreti ministeriali per i criteri minimi ambientali si è passati dall'DM del 2011 a quello del 2018 che tra qualche mese vendrà a vigore dove vengono definite le nuove procedure i nuovi processi dei criteri minimi ambientali i cam insomma un'informazione che deve comunque andare avanti a pari passo con le diverse leggi bisogna fare conti anche con quelle sì bisogna fare conti su un periodo degli anni passati dove la tutela del territorio il mangiare sano è stato abbandonato per cui questi criteri minimi ambientali che sono stati inseriti servono per recuperare la biodiversità per rendere più consoni ai criteri sostenibili i prodotti alimentari avere una produzione di tipo biologico e affrontare le nuove generazioni con i prodotti molto più sani e più equilibrati e allora sugli obiettivi futuri invece ci soffermiamo tra pochissimo e noi siamo in chiusura della nostra rassegna non mi resta che ringraziare Lini Perchiazzi giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno grazie Lini per essere stato con noi grazie Alessandro buonasera a tutti noi ci fermiamo ma restate con noi tra poco torniamo con Alte Notizie Bari playoff a Cittadella la Corte d'Appello federale ha rispinto il ricorso dal club Biancorosso per la penalizzazione di due punti in seguito al mancato pagamento di contributi e ritenute del 16 marzo in Veneto il Bari dovrà necessariamente vincere per superare il turno palla giustizia agibilità revocata entro 90 giorni si procederà con lo sgombero l'emergenza sbarca a Roma domani tavolo con il Ministero Addio Fogna in strada annunziata residenti sul piede di guerra il lavoro e la condotta bloccati dalla sovrintendenza non sono mai ripartiti un clic in meno un pensiero in più il nostro focus sulle insidie del web per i ragazzi una bussola per navigare in sicurezza Eccoci ancora qui in diretta per la terza parte del nostro telegiornale ripartiamo dalla notizia del Bari Calcio e della Corte d'Appello della Feder Calcio che ha rispinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di due punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ritenute sugli stipendi di gennaio e febbraio lo rende noto la FIGC con questa decisione rimane quindi invariato il calendario dei play-off di Serie B con Cittadella Bari che si giocherà in Veneto al Tombolato domenica 3 giugno le 18.30 Venezia Perugia le 21 in Veneto il Bari dovrà necessariamente vincere per superare il turno le vincenti affronteranno rispettivamente in semifinale il Frosinone e il Palermo il 6 e il 10 giugno finali il 13 e il 16 Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il Paterco Ortodosso Russo Kirill programmato Bari il 7 luglio in occasione della giornata di riflessione preghiera indetta dal Pontefice sulla situazione del Medio Oriente ad annunciarlo ufficialmente il giorno dopo aver incontrato il Papa in Vaticano è stato il Metropolita Ilarion capo del Dipartimento per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca che invece ha assicurato la sua presenza nel capologo pugliese in rappresentanza di Kirill falliti quindi tutti i tentativi di mediazione fra Patriarcato Ortodosso Russo e Vaticano due i fattori che avrebbero pesato sulla decisione del religioso russo da un lato il luogo dell'incontro cioè l'Italia vista dal Patriarca non come un paese neutrale a differenza di Cuba dove invece ci fu il primo faccia a faccia tra i due leader religiosi poi la presenza nel capologo pugliese del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I con il quale non scorrerebbe buon sangue La revoca dell'agibilità della procura diventa definitiva è stata firmata oggi l'ordinanza dai dirigenti della ripartizione urbanistica del comune di Bari entro 90 giorni il palazzo dovrà essere sgomberato nella quarta giornata in cui la giustizia è confinata in una tendopoli è scattata la corsa contro il tempo nella stessa mattinata in cui per la serie oltre al danno la beffa una tenda è stata chiusa per il cattivo odore e i peli segni evidenti del passaggio di animali bisogna superare il prima possibile una situazione di estrema criticità e questa è la sintesi della riunione che si è tenuta in prefettura con il capodipartimento della protezione civile nazionale Angelo Borrelli e i vertici degli uffici giudiziari e baresi ipotesi ancora in piedi la dichiarazione dello stato di emergenza per la quale ci sarebbero tutti i presupposti ha fatto sapere il sindaco Antonio De Caro ma ci sarà bisogno di un decreto legge se ne riparlerà domani a Roma dove con il ministero della giustizia verranno vagliati tutti i provvedimenti necessari da adottare le misure tampone non bastano ha detto il prefetto di Bari Mari di Samagno bisogna andare oltre con ulteriori attività e provvedimenti lo sgombero può iniziare ma con prescrizioni precise per limitare le sollecitazioni sugli elementi portanti del palazzo si comincia dalle documentazioni di archivio e degli arredi più ingombranti dei piani superiori a livello interrato trasferimenti a cui dovrà provvedere la proprietà ovvero l'Inail accesso limit taglie strane è limitato e controllato alle persone autorizzate e allora ultimo estratto del nostro viaggio nella LADIS il nostro viaggio di Confindustria ce lo racconta Barbara Cirillo LADIS è cambiata si è trasformata anche seguendo le esigenze poi dei propri clienti qui in bella mostra ci sono possiamo chiamare gli ultimi arrivati in casa LADIS certo è un progetto differente che si chiama Restart 4.0 prevederà un sistema di lavorazione completamente differente con la ristorazione collettiva non è un segmento pubblico è un segmento tutto privato si tratta di piatti pronti con una nuova moderna tecnologia di cottura saremo presente nelle regioni frontaliere nella grande distribuzione è una nuova sfida che prevede un investimento importante nel nostro territorio nuova linfa relativamente all'economia pugliese e all'economia barese in 5 anni prevederemo 250 assunzioni e volume di affari di diverse decine e milioni di euro sono queste le sfide per il futuro? assolutamente sì sganciare il pubblico direttamente aprirsi al privato trovare nuove forme di ristorazione che si concluda con un processo di nanotecnologia che permette di avere un cibo sano con una moderna cottura differente e allora grazie per averci accompagnati in questo viaggio nell'azienda Ladisa grazie Sebastiano Ladisa per essere stato con noi grazie a voi e grazie della vostra disponibilità arrivederci da qui è davvero tutto buona serata a tutti grazie Babala grazie ai tuoi ospiti e non andiamo avanti ancora possibile partecipare alla terza edizione del Digiton la marotona digitale che vede ancora la Puglia protagonista si potranno presentare i progetti entro il 15 giugno sentiamo talenti digitali a rapporto ancora 15 giorni per partecipare all'edizione 2018 di Digiton nella maratona delle idee digitali che si terrà in terra d'ofanto dal 6 al 9 settembre oggi in occasione della giornata dedicata all'orientamento organizzata dal Politecnico di Bari si torna a chiamare all'appello le start up pugliesi che vogliono entrare nel mondo del lavoro 10.000 euro al progetto vincitore ma tante opportunità per gli altri 99 partecipanti che presenteranno le proprie idee il prossimo autunno quindi chiunque abbia un'idea digitale una start up più o meno in stato avanzato e voglia provare a proporsi alla grande platea di investitori nazionali e internazionali che anche quest'anno verranno in Puglia dal 6 al 9 di settembre quest'anno a Bisceglie potrà farlo attraverso il nostro portale business, finanza, sport musica, turismo privacy sono solo alcuni degli ambiti in cui poter effettuare quella che viene chiamata la rivoluzione digitale un progetto il Digiton abbracciato dal Politecnico con la speranza che si possa limitare la fuga dei cervelli sicuramente dobbiamo dare l'opportunità ai nostri giovani di proporsi di farsi conoscere e di creare impresa o anche utilizzare le imprese che sempre più spesso si affacciano anche al Politecnico la partecipazione è gratuita ed è possibile presentare i progetti sul sito www.digiton.it tanti partner che si stanno aggiungendo a quelli già esistenti come Facebook Google Mediaset Enel e le principali banche italiane e locali tutti uniti per disegnare il futuro dei giovani imprenditori dell'era digitale il Digiton aumenta sempre di più la sua portata il lavoro che sta facendo l'onorevole Boccia per spingere i nostri giovani sul nostro territorio diventa sempre più importante e Confindustria Confindustria a livello territoriale sta facendo questo ottimo lavoro perché vuole diventare veramente un punto di riferimento per i nostri giovani Oggi pomediggio in prefettura Bari cerimonia di consegna dei diplomi delle onoreficenze al merito della Repubblica Italiana a 37 cittadini che si sono distinti nel campo delle scienze delle lettere delle arti dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche di attività svolte a fini sociali nonché nelle carriere civili e militari consegnate anche tre medaglie d'oro d'onore scusate di cui una alla memoria concessi a cittadini deportati e internati nei lager nazisti e un attestato di pubblica benemerenza al merito civile concesso con decreto del Presidente della Repubblica Bene, ci fermiamo Breve pausa pubblicitaria restate con noi tra poco con Maria Grazia Poschino responsabile del progetto Giada dell'ospedale Giovanni XXIII parleremo dell'inside del web come difendersi dalla rete a tra poco ben trovati da Nikos di Trebi Meteo diamo insieme uno sguardo alla tendenza per il fine settimana assisteremo ad un aumento di pressione su un po' tutto il bacino del Mediterraneo e quindi tra venerdì e domenica via libera gli spostamenti anche al mare a parte i rilievi montuosi il vicino Piemonte vedranno ancora qualche breve temporale di calore possibile nel tardo pomeriggio altrove veramente pochissimi i fenomeni sole che sarà protagonista la mappa della nuvolosità ci conferma di fatti un fine settimana nel complesso buona questa è riferita a venerdì con schierite anche ampie i cieli tornano a essere sereni anche sulle coste del centro sud e le due isole maggiori infine l'ultima mappa ci mostra appunto isolati temporali di calore sull'arco alpino e il Piemonte occidentale altrove una giornata nel suo complesso buona con sole protagonista temperature estive massime tra 25 e 28 gradi quindi non sarà un caldo particolarmente eccessivo dettagli più precisi come sempre sull'app di Trevi Meteo eccoci ancora qui in diretta in questo focus approfondiamo il tema delle insidie del web ovviamente per i ragazzi ma anche per le famiglie lo facciamo con la dottoressa Maria Grazia Foschino responsabile del progetto Giada del ospedale Giovanni XXIII buonasera e benvenuta buonasera grazie a voi lo facciamo perché oggi si è tenuto il festival conclusivo del progetto Teen Explorer che ha chiamato raccolta 3400 ragazzi per far capire loro quali sono i dischi della navigazione su web è diventato ormai un caso di una dipendenza per molti ragazzi ma noi intanto vogliamo anche enfatizzare diciamo le grandi opportunità che il web ci offre e non demonizzare assolutamente la rete però potenziare il pensiero critico dei ragazzi perché possano rendersi conto dei pericoli quindi in qualche modo contrastarli sostenersi aiutarsi e sapere a chi rivolgersi in caso di difficoltà il progetto complessivo ha coinvolto 3400 ragazzi quest'anno siamo però alla quinta edizione e quindi sono oltre 17.000 ragazzi coinvolti da circa 5 anni e credo che questo possa essere una garanzia del fatto che ogni anno aggiungiamo altre antenne e altre possibilità di sostegno perché il fenomeno si riduca a noi interessa sostanziare questa dimensione positiva del poter essere squadra contro le violenze educarli all'utilizzo della rete si potrebbe dire fare in modo che non sia la rete ad educare i ragazzi immagino che questo sia il principio dal quale voi vi muovete che grado di consapevolezza c'è sui rischi della rete da parte dei ragazzi devo dire che progressivamente la consapevolezza è aumentata noi annualmente abbiamo un questionario online che i ragazzi compilano perché abbiamo interesse a raccogliere le loro opinioni le loro esperienze le paure e anche quanti episodi hanno subito di violenza o a quali hanno assistito in qualche modo sia in termini di cyberbullismo che di adescamento online e devo dire che progressivamente c'è stato un aumento della consapevolezza dei rischi però certo siamo ancora abbastanza lontani dal aver contrastato completamente questo fenomeno adesso in realtà con la legislazione anche dell'anno scorso nelle scuole e anche in tv devo dire grazie a Dio si parla sempre di più dei rischi che ci sono dei pericoli e anche delle opportunità i ragazzi in qualche modo hanno una maggiore consapevolezza però diciamo la giovinezza è caratterizzata dalla voglia di esplorare di conoscere di trasgredire e questo noi non possiamo modificarlo e chiaramente la rete è un parco senza spazi senza confini in cui poi questa volontà di sperimentarsi in libertà può essere invece catturata e annichilita diciamo e quindi questo dobbiamo avere consapevolezza di diciamo di assumere la responsabilità per questo ne abbiamo chiamato teen explorer noi adulti abbiamo la responsabilità di consentire ai nostri ragazzi di essere degli avventurieri diciamo in qualche modo degli esploratori curiosi in un mondo più civile ha ragione a non demonizzarli perché poi si crea l'effetto opposto sui ragazzi più si demonizza una cosa più si crea il caccio di poterli utilizzare parliamo subito dei rischi e poi capiamo anche quale deve essere l'approccio di genitori e ragazzi nei confronti della rete cyberbullismo ad escamenti online che forse fanno meno paura nel senso che non sono reali li si considera sempre come una sfera virtuale in realtà sappiamo che possono diventare molto reali e quindi molto pericolosi i rischi sono veramente importanti noi ci occupiamo dei rischi per la salute dei rischi per la sopravvivenza perché anche molti episodi di cronaca hanno portato diciamo la grande sofferenza di ragazzi che sono stati esposti a queste sopraffazioni violenze umiliazioni via web e le parole fanno male molte volte più di un'aggressione fisica quando con un click possono essere diventare virali e raggiungere una popolazione infinita e queste esperienze espongono a traumi che noi diciamo sono pervasivi perché non hanno un confine mentre il bullismo a cui noi eravamo esposti per quanto sono fenomeni abbastanza sovrapponibili ma si consumava all'interno di uno spazio di un luogo con un confine che era la scuola che era il parco che era un centro di riunione per i ragazzi ma dopodiché fuori da quello spazio fuori da quel tempo si interrompeva bastava cambiare strada per intenderci bastava cambiare strada e sentirsi al sicuro adesso invece con il cyberbullismo queste sopraffazioni via web che con l'età diventa sempre più di tipo psicologico chiaramente non fisico come accade nei bambini più piccoli può essere riproposta in ogni momento e ogni click è un'ulteriore umiliazione sopraffazione mortificazione questo vuol dire che i ragazzi sono esposti in ogni spazio e in ogni tempo i nostri ragazzi hanno l'abitudine di non spegnere il telefono e quel click che arriva e che dice che è arrivato un nuovo messaggio o quella parola offensiva esposta in rete diciamo espone a dei sentimenti che sono molto penosi da portare e queste diventano delle esperienze traumatiche che hanno degli esiti sulla salute in termini proprio emozionali tristezza ansia depressione esperienze proprio traumi psicologici e sappiamo ahimè che hanno anche portato alla diciamo scelta tra virgolette oppure all'impulso di togliersi la vita proprio perché possono essere esperienze difficili da tollerare gli episodi di cyberbullismo diciamo sono abbastanza diffusi ahimè li continuiamo a chiamare bullismo o cyberbullismo come se fossero dei giochi in realtà sono delle esperienze molto penose forse noi adulti spesso minimizziamo le sofferenze dei ragazzi non dando il giusto peso a ciò che per loro può essere prezioso essere escluso da un gruppo già per esempio per i ragazzi della scuola elementare che in occasione della prima comunione hanno il primo smartphone fanno il primo gruppo su whatsapp non essere nel gruppo whatsapp della classe è un'esclusione molto pesante perché vuol dire non condividere atmosfere emozioni notizie che i ragazzi si passano e molte volte i genitori sottovalutano questa sofferenza lasciando in solitudine i ragazzi a magari ritenere di non poter nemmeno esplicitare la sofferenza che provano per certi tipi di esperienza perché magari i genitori li deridono oppure non danno il giusto peso quindi noi probabilmente le generazioni precedenti questo tipo di esperienza così diffusiva non l'hanno potuta vivere chiaramente tanto più si cresce nell'età e tanto più sono pesanti queste esperienze realizzate tra pari e a queste poi dobbiamo aggiungere gli adescamenti online che sono in qualche modo perpetuati da adulti che si mascherano nel web presentandosi come coetanei o come delle persone sensibili che ascoltano che supportano per poi in qualche modo mostrare la loro vera natura di sopraffattori che in qualche modo riducono la libertà dei nostri ragazzi e purtroppo capita ancora che i ragazzi accettino incontri offline che diano i propri contatti i propri numeri di telefono tanto da essere facilmente identificati con Teen Explorer noi vogliamo mettere in guardia su questo tipo di pericoli non solo ma ci piace anche potenziare l'idea che se siamo gruppo se facciamo circolare gentilezza rispetto condivisione cooperazione amicizia il presidente oggi parlava proprio di tutte queste emozioni questi sentimenti che possono in qualche modo farci sentire insieme e questo secondo noi è l'antidoto più importante verso ogni forma di violenza da non dismettere quando si parla di rapporto tra ragazzi e la rete non bisogna prescindere chiaramente dai genitori ecco molto spesso soprattutto per i nativi digitali sono avanti luce rispetto ai genitori nell'utilizzo di smartphone questo crea chiaramente un divario molto forte che è difficile da colmare i genitori come devono muoversi nella giungla di internet rispetto ai loro ragazzi ora qualche anno fa noi avevamo dico proprio 3-4 anni fa avevamo definito tutta una serie di consigli perché la rete veniva utilizzata essenzialmente col computer fisso in casa adesso con lo smartphone i ragazzi sono veramente fuori casa sempre in ogni momento e nonostante le nuove generazioni anche dei genitori conoscano diciamo questi strumenti non certo li possiedono con la competenza che i ragazzi hanno e quindi io credo che non sia un tema che si possa affrontare con l'adolescenza il dialogo con i propri figli e la possibilità di giocare di condividere tempi di condividere momenti esperienze di qualsiasi genere deve essere costruita dall'inizio io lavoro in un ospedale pediatrico e spesso nei nostri ambulatori bambini di un anno due anni in attesa della visita magari al primo pianto diciamo di noia di stanchezza spesso noi li vediamo con lo smartphone in mano perché è diventato il consolatore i genitori hanno forse rinunciato alla loro funzione di consolatori di coloro che devono guidare incoraggiare proteggere delegando troppo spesso noi adulti dobbiamo essere in prima linea e non lasciarli mai soli io credo che se si costruisce un dialogo di questo genere intanto all'interno delle famiglie all'interno delle istituzioni le scuole i luoghi di aggregazione e in qualsiasi posto adulti possono esserci le nostre funzioni sono quelle di garantire che i nostri ragazzi abbiano la possibilità di realizzare i loro talenti e questo è possibile soltanto in una società civile in cui il rispetto per l'altro è la parola chiave visto che dobbiamo dare anche una guida ai genitori e non dobbiamo chiaramente demonizzare anche questi strumenti che ricordiamo sono utili immaginiamo anche i ragazzini che iniziano le prime uscite da soli poterli raggiungere sui cellulari è una gran cosa per i genitori quanto tempo possono stare i ragazzi devono stare insomma qualche tempo non devono superare che soglia massima noi diciamo abbiamo un po' di difficoltà a dire quanto tempo il punto è sempre un po' la qualità del tempo se lo smartphone il tablet diventa il luogo della compagnia diciamo perché il genitore è preso da altro e ha uno stato mentale catturato da sempre mille impegni è questo il problema maggiore come prima era la televisione in qualche modo passivizzare noi diciamo dobbiamo adottare uno slogan che oggi in uno dei video delle scuole finaliste è stata diciamo messa in una canzone rap una vita sempre più reale la possibilità non certo di correre da un'attività a un'altra ma la possibilità che i ragazzi possano trovare degli spazi reali di condivisione e poi voglio dire queste tecnologie sono i loro linguaggi spesso si tende a confondere non reale con il virtuale assolutamente sì però condividiamoli spesso il genitore con un telefono il ragazzo con un altro una solitudine infinita giochiamo insieme perché si può giocare tranquillamente insieme si può usare il tablet insieme l'importante è che siano strumenti che creino relazioni e che non separano che non catturino come ahimè alcune volte la rete fa allora c'è una brochure ve le mostro sono due in realtà perché una è dedicata ai ragazzi e l'altra è dedicata ai genitori sono brochure che si possono scaricare dal sito di Giada www.giadainfanzia.it che cos'è è un va-de-me come un destinato sia ai ragazzi un clic in meno mi piace un pensiero in più per sostituire il reale al virtuale e poi ci sono anche delle regole per i ragazzi e delle regole per i genitori sì piccoli diciamo consigli tra virgolette per favorire noi diciamo una navigazione sicura a noi piace che i ragazzi e le famiglie possano esplorare nuovi ambienti conoscere avere grandi curiosità e questo strumento è potentissimo però ci vuole sempre un capitano diciamo per una nave ci vuole sempre un orizzonte chiaro un faro che faccia riferimento e noi pensiamo che le famiglie in una società così complessa debbano poter anche fruire dei servizi e delle istituzioni e nel nostro programma c'è una presenza immensa siamo tantissimi da questo punto di vista e oggi avevamo anche piacere di essere tutti quanti insieme perché la forza delle istituzioni può dare anche ai ragazzi il senso di non essere soli di poter condividere su più fronti e alle famiglie anche di avere dei referenti a cui riferire incertezze e dubbi quindi questo è il senso anche di questi piccoli va de mecom allora il tempo vola quando si parla di questi temi ne parliamo fortunatamente ciclicamente per chiudere vorrei inviare anche un messaggio forte l'utilizzo eccessivo di questi tablet porterà a che tipo di generazione in futuro? Beh ci sono già dei dati abbastanza allarmanti fatti dalla società di pediatri americani che hanno pubblicato dei dati in cui si riduce la capacità empatica la capacità di cogliere i sentimenti degli altri perché i messaggi attraverso i video sono sempre molto colorati molto musicati gli stimoli sono particolarmente intensi e quindi sembra che poi la realtà sia meno interessante questo credo che sia un grandissimo pericolo perché toglie la possibilità di creare quelle connessioni tra persone che credo alla base di una società civile che si muove per il benessere collettivo e oltre diciamo a problematiche anche legate proprio alla salute perché l'uso diciamo per tempi abbastanza lunghi di questi strumenti danneggia in qualche modo anche la salute fisica però perdere la capacità di capire cosa provano gli altri cosa pensano gli altri che è proprio la qualità umana potrebbe veramente allontanarci l'uno dagli altri e credo che sarebbe veramente una grande tragedia e allora salviamo i colori del mondo e non viviamo in una società bianche e nera perché questa è la cartolina che ci consegna il racconto che lei ci ha appena fatto allora siamo in chiusura non mi è se che ringraziare la dottoressa Maria Grazia La Poschino responsabile del progetto Giada dell'ospedale Giovanni XXIII meno tablet e più relazioni chiudiamo così grazie per essere stata con noi grazie a voi per averci seguito l'appuntamento torna più tardi arrivederci grazie grazie a tutti grazie a tutti